Signori, quest'oggi giochiamo a Tiny Epic Defenders con la nuova espansione The Dark War. Chiaramente una vagonata di contenuti in più, quindi nuovi boss da sconfiggere, nuovi personaggi e anche nuove meccaniche. Iniziamo prima di tutto a vedere come funziona il gioco base, perché non do nulla per scontato. Tiny Epic fa parte della serie Item Meeple, quindi abbiamo i fantasmagorici meeple con degli oggetti equipaggiabili, ce ne sono veramente una schiera immonda, moltissimi oggetti artefatti da equipaggiare, chiaramente funzionali e anche belli da vedere quando equipaggiati. I nostri meeple sono dei difensori di questa patria, abbiamo al centro una capitale e poi tutte le regioni circostanti pescate a caso, quindi le pianure, la costa, il deserto, le foreste, le rovine e le montagne. Viene formato un decazione, secondo le regole dettate dal manuale molto semplici, questo sarà il mazzo di pesca dei giocatori, inoltre abbiamo un mazzo orda. Ogni volta che finisce un round, ovvero che sono esaurite tutte le carte, andremo a pescare la prima carta in cima del mazzo orda, la rimescoleremo nel mazzo turno e quindi avremo dei nuovi mostri. solitamente più potenti, a seconda della difficoltà abbiamo più o meno mostri. Quando finisce il round e non ci sono più carte disponibili nel mazzo orde, andiamo a rivelare il boss finale, quindi dobbiamo sconfiggerlo per vincere la partita. Ogni turno si rivela una carta del mazzo turno. Se riveliamo un nemico, vengono attaccate le due regioni, prima quella a sinistra e poi quella a destra. Per esempio in questo caso vengono attaccate le foreste e il deserto. Se non c'è nessun difensore a difendere, incrementa il livello di minaccia di quella regione. In questo caso le montagne salgono di 1, quindi c'è questo indicatore, i deserti salgono di 1, questo indica il livello di minaccia. Se dobbiamo incrementare, siamo a 3 e incrementiamo ancora di 1, quella regione è distrutta. Andiamo a piazzare la carta che abbiamo pescato al di sopra, a indicare che quella regione è distrutta. Viene annullato l'effetto descritto sulla carta, i giocatori ci potranno comunque passare attraverso. Ogni volta che viene distrutta una regione esterna, viene incrementata la minaccia nella capitale. Chiaramente portare il livello di minaccia nella capitale al massimo significa game over. Se viene rivelata una carta nemico e attaccano una regione in cui c'è un difensore, il difensore va a difendere quella regione. Per difendere quella regione il difensore perde un punto vita e scongiura l'attacco, quindi non incrementa il livello di minaccia. Quando viene pescato un dire enemy, questo è un mostro più forte, che attacca una regione specifica. Se un giocatore non difende, la regione specifica incrementa di 1 la minaccia come al solito, in più si applica l'effetto critico scritto sulla carta. Se invece ci sono e devo difendere, spendo invece 2 punti vita e vado a pescare una carta artefatto. Questo è il modo in cui possiamo avere le carte artefatto. Ne pesco una a caso e ne posso avere al massimo 2. Quando vengono pescate le carte attivazione specifiche dei personaggi, quindi in questo caso giallo e blu, quel giocatore riceve 3 o 4 punti azione se almeno una regione è stata distrutta. Con un punti azione io posso muovermi verso una regione adiacente. La capitale è adiacente alla regione sinistra e destra. Ogni regione è adiacente a quella sinistra e a quella destra. Quindi io da qui devo fare 1 e 2 per entrare in capitale. Con un punti azione posso rendere sicura la regione in cui c'è un livello di minaccia. Per esempio con il blu potrei fare 1, 2, 3 e 4, quindi riduco il livello di minaccia. Poi posso spendere punti azione per attivare l'abilità o l'abilità scritta sulla tessera. Per esempio se mi trovo sulla costa, se la minaccia della costa è 0, ripristino i miei punti vita spendendo 2 punti azione. Utilizzo i punti azione per attivare un artefatto che ho equipaggiato. Per esempio questo Dragon Familiar. Inoltre quando viene rivelato il boss finale che andrà piazzato in una regione specifica come ci indica la carta, spendendo un puntazione, ogni puntazione genera un attacco contro il boss finale. Quando viene pescata una carta All Defenders, queste vengono piazzate nel mazzo azione a seconda del numero di giocatori, in 4 non ci sono, i giocatori ricevono in maniera accumulativa 3 o 4 punti azione, se almeno una regione è stata distrutta. E questi punti sono spendibili in maniera accumulativa fra i giocatori. Si sceglie chi e che cosa fa. Ogni personaggio inizia con 4 punti vita. Se arriva a 0 il giocatore non può più assicurare la regione, non può più difendere né attaccare. L'unica cosa che può fare è viaggiare verso la capitale e il suo turno, quando inizia il suo turno, si ripristina totalmente la vita. The Dark War ha due modalità. La prima modalità è un gioco singolo, The Great Battle, in cui andiamo a piazzare l'epic foe, quindi il boss finale su questa carta. Per vincere lo scenario non basta sconfiggere l'epic foe, ma dobbiamo portare al sicuro tutte e 6 le carovane. Ogni turno viene pescata a caso una carovana. In realtà ne ho montata solo una, perché sono particolarmente fragili, quindi le terrò così brutalmente. Sul retro, ok, c'è scritto il luogo in cui compare la carovana. Per esempio questa entra nella foresta, no, nel deserto. I giocatori che si trovano nello stesso spazio di una carovana, oltre al punto di movimento, quindi punto azione per muoversi di una regione adiacente, devono spendere un punto esperienza per portare con loro la carovana. Quindi in questo caso, se sono qua, spendo 1-2 punti azione e 2 punti esperienza per muovere la carovana. Posso anche muovere più carovane contemporaneamente e spendere un punto azione per ognuna. Se per esempio sono qua, andrò a fare così, 1-2 e le porto tutte in capitale. Nel momento in cui sono in capitale, sono al sicuro e il giocatore guadagna 2 punti esperienza. Ogni round ne aggiungiamo una e i giocatori devono portare al sicuro tutte le selle carovane prima di sconfiggere il boss finale. Quindi fin quando non sono portate tutte al sicuro, il boss finale non può essere sconfitto. Poi abbiamo la modalità campagna. La campagna è divisa in tre battaglie separate che si ripristinano ogni turno. Abbiamo due battaglie in cui, alla fine di tutta la taratera, andremo a combattere due generali. Alla terza battaglia andiamo a piazzare qui un boss finale a caso. Chiaramente anche in questo caso dobbiamo scortare tutte le selle carovane e sconfiggere alla fine l'epic foe. Ma in mezzo a questo epic foe, prima di tutto, ci sono questi generali. Inoltre ci sono delle carte tessere sostitutive. La stessa capitale viene sostituita di default con la versione Dark War. Inoltre, con la modalità scenario singolo, una di queste tessere viene sostituita con il lato ostile. Come in questo caso la manticora diventa ostile. E qua invece viene sostituita, a caso sempre, con una amichevole. Quindi in questo caso la manticora è ostile, quindi cerca di darci contro. In questo caso le rovine ci sono questi token con un'abilità specifica indicata dalla tessera che in questo caso sono favorevoli per i giocatori. Quindi c'è questa variante anche delle tessere e di una manovrabilità e modularità delle tessere che vengono piazzate. Iniziamo subito con un esempio di gioco. In questa configurazione facciamo uno scenario singolo, quindi non la modalità campagna. Di solito dura 25 minuti, la campagna invece può durare anche un'ora. Allora, prima di tutto abbiamo la nostra carovana iniziale che viene piazzata... Dove cavolo è? Ecco, nelle rovine. Quindi dobbiamo salvare la gente lì. Chiaramente all'inizio non abbiamo punto esperienza, quindi bisognerà fare qualcosa in merito. Andiamo a pescare la prima carta. Si tratta di un attacco. Quindi abbiamo un attacco nelle pianure e un attacco nelle foreste. Nella configurazione iniziale, quindi preparazione iniziale, le prime tre carte sono per forza attacchi. Quindi una sorta di piazzamento iniziale dei danni. Quindi abbiamo qua la foresta, no, il deserto e questo qua. Allora, quando viene attaccata questa regione, vediamo la manticora che ci dice. Muoviamo la manticora di uno spazio in senso orario. E se approdino uno spazio con i giocatori, i giocatori decidono di spostarsi nella zona successiva in senso orario, oppure di rimanere lì e perdere una vita. Questo perché la manticora zozza e ostile. Ok, andiamo. Terza carta abbiamo di nuovo le foreste che vanno subito a due. La seconda di nuovo i deserti. Non bello. Dopodiché, chiaramente, abbiamo all defenders. Quindi abbiamo tre punti in totale da spendere. Io direi con il giallo vado a fare uno, due e mi sposto di qua a tre, perché difendiamo queste regioni. Sì, sì. Il giallo farà uno, due e tre. Per adesso abbiamo tre azioni. Poi abbiamo il blu. Il blu farà, prima di tutto, uno, due e tre. Poi abbiamo tutti i difensori. Allora, giallo uno. In realtà posso spendere il terzo punto azione per prendermi... Ah, sì. Prendermi un punto esperienza, non dimentichiamoci. Round successivo, quindi. Peschiamo la prima carta in cima all'epic foe. E qua ci saranno nuovi mostrati in arrivo. Abbiamo anche una nuova carovana, quindi bisogna fare qualcosa in merito nelle montagne. Quindi cerchiamo di salvare le chiappe a questa gente. Allora, la prima carta abbiamo le foreste. Le foreste incrementano di uno. Poi abbiamo i deserti. Ma attenzione, nei deserti c'è il giallo. Il giallo quindi perde una vita. Difendiamo questa regione. Il giallo prende anche un punto esperienza. Oh, eccolo qua. Il giallo inizia la sua azione. Dobbiamo... Eh, qua dobbiamo per forza di cose portare la carovana al sicuro. Quindi uno, due e tre porto la carovana con me spendendo un punto esperienza. Poi abbiamo, oh, il cattivone di turno che attacca questa regione che è dove, da qui me ne sono appena andato. Perfettissimo. Quindi questa regione prima di tutto prende un danno. Poi questo ci dice, le skill costano il doppio per essere usate. Oh, non bello neanche questo. Poi abbiamo tutti i difensori. Allora, facciamo qualcosa. Chiaramente questo non lo posso spostare perché non ho punti esperienza. Però il giallo può spendere un punto esperienza. Ah no, è vero che quello non posso farlo. Allora, prima di tutto abbasso questo livello di uno, due e tre. Riduciamo il danno al minimo. Altri nemici. Oh, eccoli qua. Abbiamo lui che difende la regione delle pianure. Quindi va a spendere un punto vita. Si prende anche un punto esperienza. E poi ci sono le foreste che vengono attaccate. Poi abbiamo di nuovo lui, il giallo. Spende un altro punto vita. Per difendere una regione, quindi un altro punto esperienza. Poi abbiamo le montagne che vengono attaccate. Ok. Il blu a questo punto ha due punti esperienza. Facciamo uno, due e tre. Quindi spende tre azioni e due punti esperienza per portare a casa. Quando fa questo ne guadagna altri due. Poi abbiamo tutti i difensori. Ok. A questo punto anche il giallo. Il giallo fa uno. Due porta al sicuro questi. Spende un punto esperienza. E terza azione. Terza azione dobbiamo spostarci per difendere le zone. Però chiaramente se inizio il mio turno mi curo. No, io rimango qua perché mi devo curare in realtà. Ok, prossimo round. Aggiungiamo una nuova carta. Una nuova carovana che arriva nelle pianure. Prima carta abbiamo questo come al solito. E poi abbiamo le montagne. Non c'è nessuno. Va a due. Poi abbiamo di nuovo questo. E abbiamo le foreste. Le foreste chiaramente non c'è nessuno. Abbiamo questo che si muove. Lui va in senso orario. La manticora ma non c'è nessuno. E le pianure salgono ancora. Ho il giallo. Vediamo il giallo che cosa possiamo fare. Andrà a difendere della gente. Uno, due, tre. Riduciamo a zero il rischio delle pianure. Poi abbiamo questo. Quindi di nuovo si sposta la manticora. Le foreste vanno a tre. Ai, ai, ai. E sale di uno anche il deserto. Abbiamo tutti i difensori. Allora, blu devi assolutamente uno, due, tre. Abbassare il livello delle foreste. Che non è bello. Il blu. Vediamo il blu. Allora, questa caravana da prendere. Però qua c'è qualcuno da difendere. Blu? No, farà così. Ah, tra l'altro non posso mettere in sicurezza una regione in cui c'è la manticora. Quindi questa situazione non è bella. Perché la manticora adesso lì mi chiude. Allora, andrò a fare così. Uno, due, tre. E abbasso il livello delle montagne. Tutti i difensori. Ok. Tutti i difensori. Il blu abbassa. A zero questo. Uno, due e tre. Poi abbiamo questo. Chiaramente, di nuovo, non c'è nessuno lì a difendere. I deserti vanno a tre. Questo si sposta perché è stato attaccato. E iniziamo un nuovo round. Vediamo la prossima caravana dove si piazza. Nella foresta. Nemici lì. Allora, il giallo in realtà perde una vita, prende un punto esperienza, difende. Le foreste invece non le difende nessuno. Perfetto. Allora, abbiamo di nuovo le foreste che salgono a tre. E purtroppo il deserto viene distrutto. Ok. Va a quattro. Sale di uno la capitale. Poi abbiamo di nuovo questo che è già distrutto. Le montagne salgono di uno. Il basilisco va ad attaccare le pianure. E qua difende. Quindi abbiamo chiaramente ripristinato i nostri punti vita prima che eravamo in capitale. Difendo pagando due punti vita ma mi guadagno anche un artefatto. E mi pesco un Elixir of Errant. Quando sacrifico una vita guadagno due punti azione al posto di uno. Il che non è male. Non è per niente male. Ed ecco il giallo che si cala Elixir a tutto andare. Il basilisco. Ok. E ritornerà chiaramente perché non è sconfitto. Vediamo un po' chi c'è. Tutti i difensori. Ok. Allora il blu potrebbe prendersi uno di questi token. Spendendo uno. Sono amichevoli questi. Ne posso vedere al massimo uno. Ma se lo scarto in qualsiasi momento mi fa recuperare due punti vita. Il che non è male. Quindi prima azione, seconda, terza e quarta. Adesso abbiamo quattro azioni perché c'è almeno una regione distrutta. Quindi ripristiniamo un po' la foresta. Tutti i difensori hanno il giallo. Allora il giallo ha un punto di esperienza e ne ha uno. Perfetto. Porta al sicuro questa carovana. E va qua dentro. Spende un punto di esperienza. Ne guadagna altri due. Due, tre, quattro. Potrebbe spendere le altre due azioni per guadagnare due punti di esperienza. Sì. Poi abbiamo il blu. Il blu vediamo. C'è. Ci sono carovane. Non abbiamo più carovane. Ah c'è questa. Chiaramente posso farla. Prima di tutto riduco qua. A zero. Uno. Seconda azione la spendo per guadagnare un punto di esperienza. Anche la terza e la quarta porto dentro. Al sicuro quindi spendo un punto di esperienza e ne guadagno due. Ok. Poi abbiamo tutti i difensori. Con tutti i difensori adesso che facciamo? Posso fare un'azione con il blu. Prima azione. Seconda azione utilizzo questo. Scritto. Ne spendo due. Quindi vado a tre. E riduco di uno la minaccia in una regione esterna. A mia scelta. Come altra azione vado a prepararmi. Quindi guadagno un altro punto di esperienza. Abbiamo un altro nemico. Quindi nelle pianure. E nelle rovine. Ok. Uno qui e uno qui. Poi abbiamo questo che attacca questa regione che ormai è andata in malora. Ok. Andiamo a mescolare. Abbiamo un nuovo cattivone. Nuova carovana che va nella costa. Prima carta. Tutti i difensori. Ok. Andiamo a recuperare questi. Uno, due, tre e quattro. Spendendo due punti azione. Due punti esperienza e due punti azione. Quindi guadagno anche due punti esperienza di nuovo. Perché ho messo al sicuro una carovana. Perfetto. Vediamo qua che cosa c'è. Attaccano le rovine. E attaccano le coste. Il che la manticora si muove di uno. Il blu. Il blu intanto inizia il suo turno lì. Quindi recupera tutti i punti vita. Questa non la posso difendere. Posso fare... Oh, questa è pericolosa. Uno, due, tre, quattro. Azzeriamo qui. E4 spende un punto azione. Ok. Guadagna un punto esperienza. Ok. Vediamo qua. Ci sono queste. Blu spende una vita. Difende e guadagna anche un punto esperienza. Mentre qua c'è la manticora. Sale di uno. La manticora si sposta. Poi abbiamo tutti i difensori. Tutti i difensori. Che cosa facciamo? Allora qui. Spendo due punti azione per attivare questo. Siamo a zero. Quindi recupero tutti i punti vita. Con due, tre e quattro. Di nuovo questo che è distrutta. E le montagne. In cui c'è di nuovo la manticora. Quindi prende danni. E questo si sposta. Io non voglio perdere punti vita. Quindi mi sposto in senso orario. Poi abbiamo il basilisco. Il basilisco va ad attaccare questo. Il che è ottimo. Perché spendo due punti vita. E scongiuro questo attacco. Al che il giocatore giallo si va a beccare un altro artefatto. Wings of Zephyr. Spendo un punto azione. E mi muovo in qualsiasi regione esterna. A mia scelta. Quindi volo. Yeah. Guarda che zama la paura con le alette sul retro. Quindi svolettiamo sulla mappa. Altra carta. Abbiamo qua. Quindi il giallo perde un altro punto vita. E prende anche un'esperienza. Sulle foreste c'è il blu. Che difende anche lui. Quindi prende un punto esperienza. Poi abbiamo questo che attacca qui. Ma ormai è distrutto al massimo. Ultima carta prima della fine. Andiamo a mescolare tutto. Ultima carovana. Che entrerà qui nel deserto. Abbiamo il giallo. Giallo può volare dove gli pare. Il che non è male. Ah io direi che qua azzeriamo. Uno. E qua spendo questi due punti azione. Per pescare la prima carta in cima. Se si tratta di un mostro riduco di uno le regioni esterne indicate. Quindi qua chiaramente è distrutta. Riduco però le montagne di uno. E intanto questa è scartata. Poi ho ancora un'altra azione. Quindi decido di prendermi un punto esperienza. Intanto tutti i difensori. Entrambi i giocatori hanno raggiunto i fatidici otto punti esperienza. Il che adesso li spendiamo tutti. Per recuperare tutti i punti vita. E andiamo ad ottenere una nuova skill card. Spendere due punti esperienza. Nel tuo turno ripristino una vita a te stesso o a un difensore nella tua regione. Però comunque dobbiamo attivarci. E abbiamo quattro punti da spendere. Io posso spendere questa roba qui. Posso fare di nuovo questa roba. E questa carta qui che purtroppo viene... Però se corrisponde a una carta difensore riduco di uno il danno della capitale. E dopodiché allora ci sono dei mostri che arrivano qua. So che arriverà il basilisco in questa regione. Quindi voglio rimanere dove sono. Lui invece. Questo arriverà quindi si sposta per forza di cose. Guadagniamo un punto esperienza testa. Questo che sale di uno. E questo si sposta. Io mi sposto pure. E le coste vengono attaccate. Poi abbiamo questo. Io mi paro. Guadagno un punto esperienza. Le foreste invece di nuovo attaccate. La manticola si sposta. Io mi sposto pure. Poi abbiamo. Le foreste vengono attaccate. Vengono attaccate le coste. Il blu perde un punto vita. Un punto esperienza ma difende. Abbiamo il turno del blu. Turno del blu. Prima di tutto. Primo. Secondo. Spendo questo per recuperare tutti i punti vita. Mi manca un altro punto azione. Io direi di rimanere lì dove sono e prendermi un punto esperienza. Poi abbiamo questo che sale di uno. Qua andiamo a difendere. Quindi spendo un punto vita e anche un punto esperienza. Lo guadagno. Poi abbiamo. Eccolo qua. Il basilisco che stava per arrivare. Lo sapevo. Spende tutti. Va a zero punti vita. Però difende. Al che si va a pigliare un'altra carta artefatto. La carta artefatto in realtà mi difendo contro un dire enemy. Perdo un punto vita in meno. Può essere utile ma all'inizio del gioco. Quindi la scartiamo. E poi abbiamo la solita carta sfigata che non serve una mazza. E quindi nuovo turno. E si rivela l'epic foe che è la sfinge. La sfinge. Che ha 10 punti vita. Se il difensore infligge due danni alla sfinge durante il suo turno. Il suo turno termina immediatamente. Non può spendere più punti azione. O sacrificare punti vita fino al suo prossimo turno. E questo andrà a piazzare. Ah tra l'altro qua ci sono la carovana che l'abbiamo ignorata. Quindi bisognerà far fuori. Cioè aiutare la carovana prima di tutto. Però lui ha 10 punti vita. Questa sfinge schifosa. Ok la battaglia finale. Immaginatevela. Non è così eclatante. Le botte qua arrivano a randielli. Però chiaramente ogni mostro. Ogni boss finale ha le sue caratteristiche. In questo caso facciamo praticamente due colpi a botta. Non di più. E come vedete è un gioco molto semplice. In realtà. Molto rapido. Mezz'ora anche con l'espansione. L'espansione però aggiunge molto altro. Sicuramente un pochino più di carne al fuoco. Rispetto alla versione base. Che comunque è. Beh. Tiny Epic Quest è un altro mondo. È un altro livello di complessità e di bellezza rispetto a questo. È molto molto più roba. Molto più corposo. La versione base. Il gioco base qui. Era un pochino scialpa. Come potete notare. Però già con l'espansione. Si aggiunge. Un non so che di modularità. Quindi. Queste carte con la versione. Ogni volta che cambiano. Stile. Oppure amichevole. Con tutta una serie di. Di espansioni. È bello avere un sacco di. Nuovi personaggi. Alla fine. Lì ho ignorati completamente. Perché sto andando. In realtà come dimostrazione. Molto rapida. Ognuno di questi personaggi. Ha un tot di abilità specifiche. Per esempio. Mi sono sempre dimenticato. Che questo qui. No. Ogni volta che entra in capitale. Guadagna un punto esperienza. Ecco. Per esempio. Queste cosine qua. Se si gioca normalmente. Si tengono in considerazione. Quindi c'è anche quell'ambito strategico. E poi ci sono un sacco di oggetti. È veramente fighissimo. Vedere questi meeples. Tutti belli. Bitorsoluti. E addobbati. Di oggetti. Di ali. Di lanterne. E di elisir. E di per sé. Il gioco non è male. Non è così male come può sembrare. Nei momenti di stallo. Nei momenti di stasi. Si può offrire anche questa opportunità. Se volete. Un gioco della serie tiny. Epic. Molto più light. Rispetto a un epic quest. Comunque sia un gioco. Prettamente fruibile. Oggi con l'espansione. Lo è nettamente di più. Perché c'è davvero. Un sacco. Di roba. Sul fuoco. Quindi ci vediamo per un altro gioco. E saluti. E... E...